Sì, abbiamo fatto questa regata per la prima volta con questa nuova imbarcazione. Abbiamo fatto un programma nuovo di tre anni per fare queste regate offshore. Siamo molto contenti di questo tipo di risultato perché da un lato ce lo potevamo anche aspettare e da un lato, come quando si sa che si va in mare, può succedere di tutto. Abbiamo avuto una gran soddisfazione a scendere e a programmare le regate per quest'anno nella Puglia. La Brindisi Corfu era un punto di riferimento, ci dava grande soddisfazione ottenere una buona prestazione e soprattutto, devo dire, grazie all'equipaggio, al talento di qualche persona che è con me, si è riuscito ad ottenere una cosa di una bella e grande soddisfazione.